Emanuele, io al di là di aver parlato diverse volte, no? Però ho questo ricordo, come sono imbranato, di questo drone in Sicilia a Torremora, con te e tua sorella, che facevate questi filmati perché poi dovevate metterli sui social e così via. Ma come nasce quest'amore, non per i droni? Allora Mario, è un bellissimo ricordo perché Torremora ce l'ho nel cuore, è un posto magico per me. Ogni volta che mi trovo lì è sempre emozionante. Letta e letta, assolutamente. Dico sempre su Torremora che ovunque ti giri riesci a fare un bello scatto, cioè uno dei pochi posti in cui mi sono trovato in questi anni di girovagare in cui è difficilissimo fare uno scatto brutto, quindi già per questo è magico. Diciamo che l'amore appunto per il mondo del vino poi si è trasformato in comunicazione digitale e tutto quanto. Parte diversi anni fa io mi ero trovato a lavorare in un locale, quindi servivo vino, facevo cocktail e tutto quanto, quindi ero dietro il bancone e c'è stato proprio un aneddoto che mi ha fatto dire ok, c'è della passione, devo iniziare a studiare di più il vino. Allora successe questa cosa qua, io appunto non sapevo nulla di vino, c'era questo cliente che mi chiese una bollicina chardonnay. Era un cliente, un personaggio particolare, capello al vento, un signore che ci sapeva fare. Infatti la richiesta, io vengo da una cittadina di provincia, uno chardonnay bollicina non era una richiesta che è solita, diciamo. Al che io entro dentro dal mio titolare e mi hanno chiesto una bollicina chardonnay, cosa gli porto? Portagli un prosecco. Mi dice, quindi in quel momento per me bollicina chardonnay uguale prosecco. Certo. Io la porto, contento, ho detto perfetto, ho imparato una cosa nuova. Lui viene a pagare alla cassa dopo, gli chiedo tutto bene, tutto a posto, mi dà una pacca sulla spalla e mi fa sì sì tutto bene, ma tu non mi hai portato una bollicina chardonnay. Chiedo scusa, colpa mia. Cercheremo di migliorare la prossima volta. Al che poi lì ho detto, devo studiare, perché qua mi è stato detto qualcosa che non funziona. No? Quindi mi sono iscritto a un corso di avvicinamento al vino e lì la passione è scoppiata. Quindi poi mi sono iscritto ai corsi da sommelier. Nel frattempo stavo studiando economia. Una volta finita la scuola di economia ho detto, cosa facciamo? Cosa faccio adesso? Nel frattempo il vino era diventato una grande passione, appunto iniziavo a fare qualche visita in cantina, stavo studiando. Ho scoperto che c'era questo master a Pollenzo in Università di Scienze Gastronomiche su cultura del vino italiano e quindi ho detto avrò un anno full time per scoprire. Esatto. E quando ho scoperto di essere stato preso, lì era il momento in cui i social media iniziavano un pochino a spingere perché era il 2016. Io ho un'altra grande passione che è la passione per la moda. C'erano già i fashion blogger che stavano diventando, o comunque erano già affermati, nel mondo del vino, specialmente su Instagram, non c'era praticamente nessuno che raccontava il vino. Allora ho detto, ok, c'è questo anno che avrò di fronte per raccontare, posso parlare dei ragazzi della mia età, raccontiamo, buttiamoci. completamente così, a caso, no? Però mi viene questa idea del nome enoblogger che collegava il mondo fashion blogger alla parola eno, quindi vino. Era libero sui social, ho detto, usiamo così e andiamo. E quindi partita, partita, partita e nel frattempo appunto lì io pubblicavo ogni giorno, però senza un concetto di aspettativa con l'idea ne farò un lavoro. Era semplicemente un passare la passione, no? Questo era il concetto. E da lì poi, piano piano, alcune aziende hanno cominciato a contattarmi e allora ho detto, ma sai che forse allora potrebbe diventare un lavoro. E quindi appunto sono entrato nel, sono passato da appassionato a diventare una persona che lavora effettivamente nel settore. E ti dico, all'inizio non è stato semplice, nel senso che la prima cosa che arriva sui social sono le critiche, molto più dei complimenti. Perché le persone, quando non capiscono, piuttosto che dirti bravo, provano a buttarti giù. Certo. E lì devi essere forte, devi riuscire a tenere botta, tenere il pezzo, avere dietro delle persone che ti dicono guarda vai lo stesso, non importa, non importa. Quindi crearti un po' di corazza. Però poi il percorso è bello, nel senso vai avanti, conosci persone bellissime, viaggi, hai sempre la mente che gira a 3.000. E quindi il bello è sapere che adesso sono nel settore, sono da questa parte, faccio comunicazione, ma in futuro chissà, nel senso non mi pongo limiti, andiamo avanti. L'altra cosa interessante, quindi non è stato semplicissimo iniziare, è stata una scelta, una scelta voluta, per me è interessante, al di là dell'enoblogger che è importantissimo, visto il lavoro che faccio, ma è importante anche capire un indirizzo, un consiglio che uno può dare ai giovani, una passione che può diventare un lavoro. Questo è il risultato. Quindi crederci e fare quello che si deve fare, perché questa difficoltà la incontrate sicuramente. Sì, assolutamente. Si sente spesso dire la classica frase, lavora con le tue passioni e non lavorerai neanche un giorno della tua vita. E tutti dicono, wow, bellissimo. In realtà, quando era solamente una passione, molto spesso mi godevo molto di più il vino. Adesso, quando sei dalla parte lavorativa, hai comunque delle dinamiche che devi tenere presenti, ci sono altre responsabilità, perché comunque una responsabilità ce l'hai. Quindi è verissimo, perché io mi ritengo un privilegiato ad aver avuto la possibilità di dire, ok, questa è una cosa che mi piace, lavoro nello stesso settore, perché sono consapevole che non è per tutti. Però la frase che ti ho detto molte volte è semplicistica, quindi semplicizza un concetto. Però il mio consiglio è, se avete un fuoco, c'è qualcosa che sentite che quando ne parlate, quando siete a contatto con persone che condividono le stesse cose, vi fa star bene, credeteci, non abbattetevi, sembrano parole semplici, perché poi quando ti trovi nel momento è più difficile, però poi alla lunga arriva. Qual è come esperienza che ti ha portato questa tua professione, non voglio dire negativa, ma un consiglio che daresti a chi inizia, nel senso perché naturalmente quando te, ben o male, apri la finestra e le tende di casa tua, perché questo è un po' il social, ecco, cosa che potresti dire te? Allora, quando apri le finestre ti metti completamente a nudo, quindi appunto sei vulnerabile, sei assolutamente vulnerabile. Una delle esperienze che mi è successa appunto all'inizio e alla quale non ero ancora minimamente stato preparato è stato il fatto di trovare delle persone molto più grandi di me, già dei professionisti, che appunto attaccano e criticano cose anche sul personale. Tu attaccami sul mio lavoro, non c'è problema, cioè nel senso su quello va bene, io sono pronto a prendere critiche, sono una persona che si mette costantemente in discussione, quindi va bene. Quando però uno che tu consideri un professionista attacca sul personale, quello fa male e quindi il mio consiglio è cercare di non dare peso a quell'attacco personale, perché non è utile e una persona che non ti conosce attacca una cosa personale, cioè è difficile, ma bisogna cercare veramente di essere forti in quel momento e pensare che non mi ha attaccato sul lavoro, quindi lasciamo perdere, appunto come dicevo prima, andiamo avanti. Questa magia del vino, di questa usa va trasformata magicamente in questa soluzione idroalcolica che diventa un elisir. Cos'è la cosa che ti appassiona, che ti ha fatto innamorare? Per me quando bevi un vino hai la possibilità di viaggiare indietro nel tempo, che è una cosa che nient'altro, probabilmente nessun altro prodotto ti dà la possibilità, e hai anche la possibilità di spostarti a livello di luogo, pur essendo tu fermo in una zona del mondo. Ed è una cosa unica, cioè appunto magari assaggi un vino della California, con un po' di anni sulle spalle tu sei in California e stai andando indietro in quei tempi, in quel luogo. Questo per me è la cosa più bella, la possibilità appunto di immaginare le persone che hanno prodotto quel vino in quel momento cosa stavano vivendo, e quindi quello che tu assaggi oggi è il prodotto della società di quel momento. Quindi immagino, per come mi hai descritto appunto quello che mi dicevi ora, non c'è una preferenza di un vino, è difficile. Difficilissimo, difficilissimo anche perché io credo che lo stesso vino assaggiato in momenti diversi della nostra vita cambi. Con amici o con nemici, con risultati positivi della giornata o negativi. Bravissimo, esatto. Cambia tanto quindi è difficile. Ci sono stati magari vini da cui avevo una grande aspettativa, ma in quel momento non ero pronto o ero magari anche mentalmente non nel qui e ora e quindi me ne sono goduti molto meno. E ti è mai capitato di fare, di scrivere non un giudizio, ma dare una descrizione di un vino in una giornata un po' negativa e doverlo riprendere o dovesse rimettere in discussione anche proprio con i tuoi lettori dicendo ragazzi che io l'ho riassaggiato. Mi è capitato, mi è capitato sì, capita spesso anzi. Guarda ti dico, la cosa legata al mondo dei social che abbiamo, io e altri miei colleghi, non ce lo siamo mai detti, ma è un qualcosa che forse arriva dalle piattaforme e tendiamo difficilmente a parlare male. Piuttosto se qualcosa non ci piace appunto diamo il beneficio del dubbio, in quel momento non ne parliamo, ne riparliamo in uno secondo momento. Cerchiamo sempre di parlare più dell'esperienza che c'è vicino al prodotto. Però sì, quello che mi chiedevi mi è capitato e capita spesso, ripeto, io parto dal presupposto che bisogna mettersi costantemente in discussione, avere la propria linea ma mettersi in discussione. E te ti stai mettendo talmente in discussione, so qualche vocina nell'orecchio mi dice, che diciamo da spettatore, quindi ti piace diventare un po' protagonista e attore di questa storia del vino. Sì, ci proveremo. Ecco, come nasce. Ci proveremo. È interessante. Sì, sì. Ora, io sai, al di là della passione mia, poi io ho trovato qualcosa e quindi cerco di portarlo avanti e di lasciare questa tradizione a qualcun altro. Certo. Ma te, nata così. Certo. Si nasce in un modo e si può anche… Certo. Appunto, voglio tenerlo, diciamo, segreto per quando ci sarà il momento di questo annuncio, però è la volontà di rimettersi nuovamente in discussione, nel senso di provare effettivamente a far capire in questi anni di assaggi e tour e giri che cosa questo nuovo progetto darà. Quindi è proprio una volontà di giocare. Io sono dell'idea che è lavoro, però se uno riesce a farlo con un po' di spensieratezza viene meglio. Ma ti nasce perché sei diventato un bevitore al canito o perché sei un amante di grandi momenti, perché sei un generoso e vuoi dispensare, voglio dire, e condividere quello che ti sei riuscito a mettere in bottiglia con qualche di un altro? Qual è l'esperienza che ti dà? A me piace condividere. Per me i momenti più belli sono i momenti in cui si passano momenti con le persone a cui vuoi bene in spensieratezza e quindi credo che sia questo. A me piace tanto appunto la condivisione e la parte più bella di questo settore. Prima parlavi un po' anche di territorio. Quanto incide anche tutto questo nel territorio, nella terra, nella madre del prodotto che poi andrà in bottiglio? Quanto è che l'esperienza tua... È fondamentale. Appunto io dico spesso che senza, prima di iniziare a girare appunto per cantine e di visitare territori, avevo una visione del mondo del vino. Quando ho iniziato ad andare sul territorio, capire veramente le storie delle persone che lo vivono realmente tutti i giorni, la percezione cambia. Cambia tantissimo. Quindi è fondamentale. Questa è un'altra cosa che mi piace dire appunto ai ragazzi che dicono come mi avvicino al mondo del vino. Prova a viaggiare, prova ad andare effettivamente in cantina, capire che cosa c'è dietro quello che poi assaggerai e tutto cambia. Questo effettivamente conta tanto. Tanto. Quanto si è supportato la famiglia? Tantissimo. Tantissimo. Anche quando non ci credevo io a volte. Ecco, questo è… Sì, mi è capitato appunto anche all'inizio, poi ripeto, io sono nato mentre i social stavano arrivando. C'era un periodo in cui appunto all'inizio pubblicavo, pubblicavo, pubblicavo senza sapere che cosa ne sarebbe derivato e magari voglio… non ho più voglia di pubblicare, basta. E mia madre mi diceva vai pubblica, vai, 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 pubblica che non sei mai, però devi lasciarti aperte le porte. Se la chiudi prima ancora di aver provato a fare qualcosa è andato. Quindi mi sembra comunque un grande entusiasmo quello che fai con un occhio rivolto a questo nuovo… a questa nuova cosa. E in questa voglio dire nemmeno mutazione perché rimarrai comunque. In questo cambiamento eccendendo di te come vedi quando assaggi un vino lo assaggi nello stesso modo, riesci a capire altre cose, sei diventato più rigido, meno rigido, perché questo poi voglio dire è un'evoluzione. Io all'inizio questo mi piace, no, questo non mi piace. Io ho capito che non c'è un produttore al mondo che cerca di fare un vino cattivo. certo. Quindi grande rispetto per tutti. E quindi ora nel crescere sono diventato molto più aperto, no, e forse anche più profondo a capire perché quel vino è così. Certo, certo. Condivido a pieno. Appunto nell'assaggiare tanto arriva una maggiore consapevolezza effettivamente di magari cosa preferisci e cosa non preferisci. Cioè quello ci stanno, cioè normale. Però come dicevi tu c'è grande rispetto e proprio parlavamo prima appunto di giudizi. Non mi piace giudicare perché non mi piace essere giudicato in primis. Nel senso io sono molto per il ognuno fa il suo. Se fai bene non dai fastidio a nessuno. Esatto. Nel senso si va. Quindi sì ovviamente il gusto e il modo di assaggiare cambia, l'attenzione che dai mentre stai assaggiando cambia. Però sono totalmente d'accordo con te che nessuno vuole fare un vino cattivo. Quanto è importante nella comunicazione il discorso di un linguaggio per avvicinare i giovani nel modo giusto al vino. Perché molte volte l'idea dei giovani lo sono stato. Sembra strano ma sono stato giovane anch'io. E quindi di prendere, sfiocchiamoci, sfiocchiamoci una bottiglia così se sta bene un paio d'ore arrivederci. Grazie. Quanto è importante la comunicazione e cercare di far capire e avvicinarli nel modo giusto perché è quello che ci serve a noi nel settore. Che rimandano poi consumatori non bevitori. Certo. Tantissimo. Io ti posso dire, mi è capitato spesso di trattare questo argomento appunto in diverse situazioni. Siamo confrontati con amici e colleghi. Abbiamo visto veramente che in questi cinque anni l'età in cui ci si avvicina al vino è scesa in modo importante. Quello che per esempio io ho fatto fatica in un primo momento è stato proprio trovare delle sovrastrutture che ci sono all'interno del settore e che proprio andavano contro il modo in cui un giovane inevitabilmente perché ha meno esperienze e perché è più spensierato a voglia di approcciarsi in un modo più easy, più semplice. Esatto. Quindi l'utilizzare termini non esageratamente infiocchettati, parlare molto molto più terra terra è fondamentale però sempre con un'attenzione appunto all'idea che tu stai trovando di fronte ad un prodotto che va capito e nel quale devi metterci un po' più di attenzione rispetto magari al cocktail che ti bevi sabato sera. E quindi è più un fatto di come della comunicazione più che del prodotto. Non c'è una denominazione che vince ma è una comunicazione, una descrizione che fa avvicinare anche il giovane al vino. Assolutamente. Sicuramente quello che può allontanarli è appunto creare un mondo molto molto impettito. La cosa che ho percepito in questi anni è se un giovane appunto non trova almeno tot sentori quando avvicina il bicchiere al naso ha la paura di non essere abbastanza. E questo qua è una cosa che inevitabilmente se non hai assaggiato, non hai studiato, non hai provato è chiaro. Quindi magari appunto all'inizio creare delle situazioni in cui si assaggia il vino ma non si sta un'ora con il naso nel bicchiere. Avvicina il vino all'inizio, crea la situazione in cui piuttosto che un cocktail magari assaggi il vino. E poi piano piano ci sarà chi vuole scendere più nel dettaglio e quindi studierà e si avvicinerà di più. Chi invece vorrà magari rimanere sulla superficie ma quello che rimane sulla superficie non è una persona che merita meno rispetto a chi entra al profondo. Questa domanda faccio proprio egoisticamente per me. Questo mondo delle bollicine che è proprio esploso, sta proprio una bolla gigante all'interno delle bollicine è una cosa come vedi per il consumo per semplicità perché è più easy di appunto, si condivide meglio, si apre una bottiglia di bolla come si dice e siamo tutti felici, non c'è tanto mal di testa di capire. Sì beh devo dire che appunto in questi ultimi anni la bollicina ha visto una crescita incredibile. Secondo me c'è un concetto di voglia di festa. Ho visto, poi arriviamo da degli anni difficili, tostissimi. In questo momento secondo me manca molto la condivisione, il parlare come stiamo parlando io e te. Non so come c'è… Sì sì chiaro. Se si può usare un salutare di… Esatto, esatto. C'è meno questa cosa. Io essendo sui social me ne rendo conto che sono uno strumento potentissimo ma allontanano che ognuno è nel suo mondo guardando il cellulare e questa cosa fa venire meno il parlarsi, no? Molto spesso a tavola ci troviamo e dopo un po' le persone iniziano a guardare il cellulare. È una cosa bruttissima perché poi è difficile ricreare una sinergia mentale, apertura nei discorsi e tutto quanto. La bollicina aiuta, magari l'inebriare anche un pochino al momento non fa male, senza eccedere. Quindi secondo me è un qualcosa che andrà avanti e continuerà. E probabilmente appunto la bollicina presuppone anche l'entrare meno a pensare nel calice. Tu la bevi e ti godi il momento. E ti senti subito all'altezza. Sì, esatto. Secondo me questa è un'interpretazione giusta perché la difficoltà nel vino è proprio quella. Devi andare a cercare la zona, a cercare l'annata, a sentire i sentori, poi dici di che sa, di che non sa, te che ci senti. Quello dici io non ci sento meglio. Esatto. Mentre la bollicina nessuno si dice nulla, salute e si beve. Perché il vino effettivamente è condivisione. Questo indubbiamente è così. E quindi è una delle parti che secondo me anche a te, a voi, diciamo blog, piace di più. Sì, è la cosa più bella. Quando sei in giro, quando conosci persone, quando hai la possibilità di ascoltare altri pezzi di vita, puoi appunto metterti in discussione, ascoltare e crescere. Emanuele allora io mi auguro di ricevere un biglietto in prima fila per quanto diventerai attore. Grazie. E questo mi farà molto piacere. Grazie. E ti auguro una bella prima. Assolutamente riceverai il biglietto. Bene. Grazie. 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 Grazie a te.